come trascorrerete il capodanno a casa si 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 come tutti i giorni una sera normale anch'io a casa si cucina no cucino cucino io no congiunti vado a dormire alle 9 e mezza non ha organizzato nulla anche ma anche a natale in due in due sto a casa faccio il brindisi con la mia famiglia no no cuciniamo noi noi uguale brindisi a mezzanotte poi tutti a letto si sta a casa cosa non si può fare nient'altro ma peraltro non sono anni che non faccio grandi cose il 31 quindi a me pesa meno e mi attengo alle regole sbagliate o giuste che siano mi attengo alle regole non si può fare niente stiamo a casa e lo passiamo in famiglia si purtroppo quest'anno è così solo con la famiglia forse qualche vicino ma niente di che rimaniamo con la nonna i genitori e basta io almeno rimango a casa andiamo altre idee un malamese poi no con la famiglia io a casa con gli amici no compriamo no prendiamo un domicilio in un ristorante di pesce qui a pesaro e basta poi speriamo di arrivare a mezzanotte con lei pinta che mezzanotte è alle 9 mettiamo gli orologi facciamo festa e freghiamo questo virus odioso e varie cose lenticchie gratinati dolce ci vorremmo che il nostro carissimo sindaco verso le 9 e tre quarti si collegasse con fano tv scandisse il meno 5 meno 4 meno 3 così facciamo il brindisi alle 9 e alle 10 torniamo a casa tutti a casa tutti a casa sperando che si possa riuscire finalmente a avere una vita normale speriamo no no proprio cucina basica niente proprio in tema con quello che siamo basici io sono una che non cucina quindi faremo una pizza fa le lenticchie poi io voglio il mascarpone fa il mascarpone no no è bravo è bravo ieri ha fatto anche le tagliatelle ha fatto lei proprio certo certo io e lei basta la figlia in spagna diciamo ciao ciao io lei il cane